Discutere sulla prevenzione e il contrasto alla violenza di genere, confrontarsi su fatti che giorno dopo giorno si ripetono nonostante si sia accresciuta negli anni la sensibilizzazione e la consapevolezza su questo tema. Questi gli argomenti del dibattito con gli studenti della scuola secondaria degli istituti comprensivi 1 e 2 di Capodorlando e i referenti dei comuni aderenti alla rete antiviolenza del distretto D31 al Cineteatro Rosso di San Secondo. L'evento è stato organizzato dall'amministrazione Sindoni con il supporto del centro antiviolenza PIN Project. Parlare non è mai abbastanza soprattutto quando si cerca un po' di rivolgersi a delle utenze che possano cogliere dei messaggi precisi come quelli appunto della sensibilizzazione, del contrasto, della possibilità di utilizzare la tenerezza, di non parlare di una forza che sia necessariamente una forza aggressiva ma proprio del rispetto invece fra i generi appunto. Ma questo perché è un problema di cultura? È un problema molto legato alla cultura in realtà. Noi infatti dobbiamo ringraziare tantissimo il comune di Capodorlando e in particolare l'assessore Cettina Scaffidi che è assessore proprio alle pari opportunità perché ci ha dato la possibilità di comunicare insieme alle istituzioni quello che è un messaggio che può smuovere un po' gli aspetti culturali. Gli aspetti culturali che noi intendiamo essere proprio nella cultura quotidiana, in tutte quelle piccole cose che spesso in realtà generano ad esempio confusione tra il poter essere uguali nell'accesso ai diritti e ai doveri e il poter invece essere diversi nell'espressione di una personalità, di un modo di essere, di comportarsi che sia appunto diverso l'uno dall'altro e nel rispetto però totale dell'altro. Grazie. Grazie. Grazie.